Rogo nel parcheggio antistante un'azienda di Cisano Bergamasco. Le fiamme, alte diversi metri, sono divampate. Ieri sera intorno alle 22.45 a Laronzoni e Perego, ditta che commercia carne all'ingrosso e che si trova sulla provinciale che collega i paesi di Cisano e Brivio nel tratto comunale che prende il nome di Via Milano. Ancora in corso d'accertamento le cause dell'incendio che ha mandato in fumo tre veicoli, due camion frigoriferi ed un'auto, una lancia Ypsilon. Il rogo, secondo gli accertamenti dei vigili del fuoco, sarebbe divampato per effetto di un cortocircuito partito dall'automobile, escluso quindi il dolo. A dare l'allarme alcune persone che si trovavano nelle immediate vicinanze del capannone. Sul posto sono così giunte tre squadre dei vigili del fuoco provenienti dal comando di Bergamo e dai distaccamenti di Madone e Dalmine. I pompieri sono riusciti a domare l'incendio solo intorno alla mezzanotte. Le fiamme hanno divorato i tre mezzi, mandando in fumo ogni tipo di materiale e salvando solamente lo scheletro metallico. Del caso si occupano anche i carabinieri di Cisano Bergamasco per i rilievi di legge. Ingenti i danni riportati nell'ordine di circa 60.000 euro. Le fiamme che hanno avvolto i veicoli non si sono fortunatamente propagate al vicino capannone industriale, rimasto soltanto annerito dai fumi.